Abbiamo dovuto aspettare tre settimane per avere un ritorno della Formula 1 sui nostri canali e l'abbiamo fatto con il Gran Premio d'Olanda GP di Zandvoort che da qualche tempo a questa parte di fatto riapre le ostilità per la seconda parte della stagione. Il Gran Premio d'Olanda è rientrato nel 2021 e per tutte le tradizioni precedenti aveva vinto Max Verstappen, questa volta invece non è così perché vince finalmente Lando Norris che nonostante una partenza anche una volta buttata nel cesso riesce a rimediare con una macchina nettamente superiore e a fare il Verstappen della situazione. L'inglese andrà a vincere con 20 secondi di vantaggio rispetto appunto a Verstappen e a un sontuoso Charlie Clerk che finisce ovviamente sul podio. Ma andiamo con ordine perché comunque la gara di Zandvoort nonostante si parli di un pistino di 72 giri tendenzialmente di Noia Mortale qualche spunto lo ha regalato e il primo spunto è stato appunto il start sbagliato da Lando Norris che non era mai riuscito a completare un primo giro in testa quando partiva dalla pole position e anche stavate è stato così. L'inglese partiva con un grandissimo margine in qualificazione con un Verstappen che era soltanto secondo ma a quattro decimi di differenza quindi tantissimo. Verstappen però ha una reazione migliore, si è spiegato anche in Teleconica Sky che però Norris ha avuto un piccolo problema nel pattinamento delle ruote tra l'inserimento della prima e della seconda marcia. In quel lasso di tempo però Verstappen riesce a imboccare la curva Tarzan che sarebbe la curva 1 di Zandvoort in prima posizione e a provare ad allungare. Norris si mette dietro, sembra una gara solita di Zandvoort quindi molto noiosa e a Trinno con pochissime possibilità di sorpasso. Alla fine però quello che deve servire a Norris arriva di fatto a poco più di 20 giri dall'inizio della competizione. Con un DRS clamoroso Norris va di fatto a sverniciare Max Verstappen. Veramente la Red Bull sembrava di fatto qualunque altra macchina del 2023 che non fosse la Red Bull. Quindi una macchina impotente nei confronti di questo DRS fondamentale di Landon Norris e della McLaren in generale. Alla fine Norris nonostante avesse mezzo secondo di svantaggio alla ultima parabolica riesce a imboccare la curva 1 in testa e da lì in poi di fatto non ce ne sarà più per nessuno. Norris si concederà anche il lusso di singlare il giro veloce all'ultimo passaggio al 72esimo giro. C'è quel flag per il pilota inglese e di conseguenza seconda vittoria della carriera dopo quella di Miami e dopo un sacco di altre gare buttate via molto probabilmente per errori suoi. Da tifoso McLaren sono contento che Norris si sia un attimo ritrovato, abbia risettato la testa quantomeno dopo aver fatto l'ennesimo errore della carriera sulle partenze francamente un po' mi ha smentito nel senso che è boggiata per persa la gara di Zandvoort per Landon Norris. Ma perché? Zandvoort è un pistino, parliamo di poco più di 4 km. È impossibile superare se non sostanzialmente all'inizio diciamo di curva 1 e forse nella penultima chicane prima dell'ultimo settore che si fa totalmente in pieno con le doppie paraboliche verso destra. Norris invece appunto sfruttando anche l'ok del muretto che gli ha fatto una strategia per una volta molto azzeccata è riuscito a gestire bene la gomma nei primi passaggi al ventesimo giro circa, passare Verstappen e aggiudicarsi appunto la seconda vittoria della carriera per un mondiale piloti che comunque vede l'inglese a meno 70 da Verstappen quindi è vero che suona God Save the King per quanto riguarda il pilota britannico ma è altrettanto vero che comunque questa vittoria fa bene più per il morale che per i mondiali piloti. 70 punti di svantaggio ha praticamente nove gare dal termine sono tantissimi da recuperare nei confronti di questo Max Verstappen che comunque ha fatto una gara abbastanza regolare senza grandissimi acuti ha provato a fare qualcosa di diverso con una partenza straordinaria ma comunque è arrivato secondo. è vero che Verstappen non vince da Barcellona ma è altrettanto vero che comunque gli altri avversari un po' hanno buttato via le loro gare un pochino e sono alternati tanti piloti appunto in prima posizione non soltanto Max Verstappen e di conseguenza questi cinque punti persi tutto sommato sono un buon bottino per uno che comunque arriva a Monza con 295 punti totali. Va detto però in realtà che il driver del giorno senza sé e senza ma è Charles Leclerc. La Ferrari era nettamente una macchina inferiore era una macchina che poteva giocarsi verosimilmente la quinta e la sesta posizione almeno questo dicevano i valori in qualificazione dove ricordiamo Sainz addirittura fuori in Q2 e Leclerc partiva in sesta posizione ebbene Leclerc esattamente come in Cina ha dimostrato che il pilota sa metterci tanto del suo e per una volta appunto riesce a suggerire strategie corrette. Leclerc in questo caso cosa fa? semplicemente un doppio undercut nei confronti sui diretti avversari che erano appunto Norris e Oscar Piastri alla fine Leclerc riesce a difendere la posizione su entrambi gli avversari e riesce a fare un grandissimo podio peraltro secondo consecutivo dopo la gara di Spaffran con Schamp. Leclerc è ufficialmente terzo nel mondiale con una macchina al momento inferiore con pochi aggiornamenti pare che settimana prossima a Monza ne avranno degli altri e chissà se potrà tornare a livelli molto alti come a inizio stagione. Certo comunque vedere un Leclerc che ci mette tanto del suo è finalmente come dire di riscatto nei suoi confronti. Si diceva un po' anche che Leclerc non fosse questo pilota che assecondasse molto diciamo i voleri del pilota campione quello che va oltre le strategie della squadra quello che si dice qualcosa di diverso in questa zona l'ha già fatto un paio di volte e questa è una grande gara di Leclerc driver of the day senza se e senza ma. Quarto Oscar Piastri che per la macchina che aveva in questo contesto sinceramente è la delusione del giorno perché quarta posizione per Piastri di fatto quella da dove è partito non è propriamente sto granché perché se Norris ha sverniciato Verstappen con una macchina nettamente superiore la McLaren parliamoci chiaro è la migliore macchina in pista senza se e senza ma anche Piastri con il fatto che comunque ha fatto overcut e quindi una strategia diversa poteva attentare alla terza posizione con gomme di 7-8 giri più fresche rispetto alle Leclerc purtroppo non ce l'ha cavata neanche sto giro Piastri ha avuto un miglior passo gara più con area libera senza piloti davanti che con piloti appunto nel traffico di conseguenza un pochino anche con i doppiati e una carenza di passo nel finale non è riuscito a superare Leclerc che ha fatto una grande gara Piastri si accontenta tra virgolette in una quarta posizione certo dare delusione del giorno a un pilota che ha fatto quarto è probabilmente un po' severo però per questa macchina che nel contesto di Zandvoort era decisamente performante ci si poteva aspettare un doppio podio come è capitato in altre occasioni quinto è Carlos Sainz abbiamo una Ferrari che in realtà ha sorpreso potremmo dare alla Ferrari la scuderia of the day come premio perché comunque Sainz ha fatto una grande rimonta dal Q2 arrivando in quinta posizione con un'ottima strategia Leclerc ha fatto una grande gara e di fatto la Ferrari si è riscattata in qualche modo sulla carta la Ferrari doveva finire intorno alla quinta e sexta posizione con entrambe le macchine non è successo merito dei piloti Sainz peraltro notizia di mercato che sapete sicuramente tutti è arrivato a firmare per la Williams il prossimo anno in coppia con Alexander Albon adesso per Sainz sarà importante continuare comunque a fare punti per il suo morale e la sua carriera e dare comunque una buona conclusione all'avventura in Ferrari che lo ha visto comunque vincere tre volte in carriera peraltro l'ultima e qui stanno a Melbourne sesto posto invece per quanto riguarda la Red Bull di Sergio Perez sempre più in disarmo nel computo generale della stagione non probabilmente in questa gara certo però vedere una Red Bull che si prende 40 secondi dal leader la dice lunga come in generale la vettura austriaca non sia più quella migliore dell'otto che dominava in lungo e largo in questa stagione va detto che in realtà dominava solo con Verstappen Perez era già after the music da tempo però comunque sesta posizione per Perez di certo non sono presentazioni così opache come per esempio il diciassettismo opposto di Silverson o il settimo della gara di casa della Red Bull in Austria ottavo posto per Luis Hamilton che va detto ha avuto una gara handicap è stato penalizzato in modo abbastanza discutibile di tre posizioni per impeding su Alexander Albon al netto che francamente io l'impidi in qualificazione non l'ho visto alla fine della quattordicesima rimonta all'ottava e Hamilton ha fatto quello che poteva in mezzo ovviamente abbiamo parlato anche di George Russell che ovviamente citiamo un attimo in ritardo Russell ha provato comunque a fare una strategia diversa non ne aveva però rispetto a Piastri e a Leclerc a un certo punto la Mercedes ha deciso di fermare entrambi i piloti con gomme morbide per arrivare in fondo col giro veloce Russell non ce l'ha fatta ha comunque portato a caso una settima posizione nono invece per quanto riguarda la gara di Zandvoort è Pierre Gasly con un Alpine in crescita Gasly peraltro liberato dal suo compagnolo di squadra Esteban Ocon per il prossimo anno ricordo che in Alpine l'anno prossimo ci sarà Jack Duan figlio di Mick cinque volte campione della 500 moto mondiale e attualmente terzo pilota dell'Alpine nonché uno dei buoni piloti di punta della vecchia Formula 2 Gasly comunque ha fatto una grandissima gara per il mezzo che aveva nono con questa Alpine è un risultato secondo me decisamente positivo decimo invece è Fernando Alonso con un Aston Martin che non è più quella competitiva di inizio stagione non è neanche quella dell'anno scorso minimamente lontanamente e di conseguenza quello che arriva è oro colato decimo posto per Alonso chiude di fatto la zona punti per una Formula 1 che continuerà le ostilità settimana prossima nell'ultima tappa europea propriamente detta che è quella di Monza dove ovviamente ne parleremo nel prossimo recent podcast ci erano poche va detto categorie di contorno in questo Gran Premio di Zandvoort l'Olanda però ha accettato la F1 Academy e la Porsche Super Cup di cui andiamo a parlare a partire però dalla Formula 4 femminile una Formula 4 femminile che è arrivata al giro di Boa di questa stagione una stagione che prevede adesso altre tre gare tra Singapore in un campionato che finalmente vede le ragazze affigliate alla Formula 1 in tutto e per tutto con tante pilote ricordo sponsorite dalle varie Academy a cominciare dalla leader del campionato Abby Pulling che fa risuonare God Save The King esattamente come in Formula 1 è successo per Lando Norris Abby Pulling vince la gara 1 peraltro corsa la domenica mattina a causa il rinvio della gara originaria per un diluvio universale Abby Pulling domina in lungo e largo davanti alla spagnola Nerea Marti e alla pilota di casa Maya Veug che è olandese ma che corre anche con licenza belga e spagnola e corre per il team Ferrari invece suona la marsigliese in gara 2 per Dorian Penn pilota del junior team della Mercedes davanti sempre alla solita Maya Veug e in terza posizione la solita Abby Pulling che ricordo corre per il team Alpine il campionato della F1 Academy va detto è abbastanza indirizzato 190 sono i punti in totale per Abby Pulling la prima di seguitrice è appunto Dorian Penn con 119 il campionato invece è molto competitivo ed è quello della Porsche Super Cup di cui non abbiamo mai parlato ma comunque diamo una doverosa parentesi per completare anche le categorie di contorno una triplette olandese protagonista nella gara d'Olanda appunto della Porsche Super Cup che per darvi l'idea di che cos'è è un campionato monomarca Porsche che raduna di fatto i vincitori e i migliori piatti delle categorie nazionali in uno unico campionato del mondo decisamente molto molto interessante Larry Tenvoorde è il grande dominatore di questa stagione e di questi campionati con 5 vittorie su 7 gare ma che non ha ancora vinto il titolo del mondo perché col quinto posto dei primati in seguitore ovvero Harry King ci sono 20 punti di differenza tra olandese e inglese ce ne sono 25 in paglio per la prossima gara di fatto a Mungo si chiuderà questo primo campionato del mondo insieme alla Formula 3 dicevamo è tripleto olandese perché in seconda posizione abbiamo il pilota esperto del Dynamic Motorsport Jaap Van Lagen peraltro Dynamic Motorsport team italiano e terzo invece è Robert De Han all'esordio assoluto in questa categoria un rookie al secondo podio della stagione sarà un duello che appunto si concluderà a Monza verosimilmente con la vittoria di Tenvoorde a meno che non ci sia uno zero da parte di Tenvoorde e una vittoria da parte di Harry King ultima tappa a Monza settimana prossima insieme alla Formula 3 alla Formula 2 e anche alla Formula 1 che appunto già settimana prossima sarà protagonista non solo in pista ma anche nel prossimo Racing Podcast il saluto da parte di Matthew Torgaard ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video